Buongiorno, buona sabato mattina, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano. Occhio ai giornali, sono le 7.30, siamo in diretta e naturalmente come faremo sempre sfoglieremo i quotidiani in edizione locale per vedere che cosa ci propongono oggi, come notizie, come approfondimenti. Ma naturalmente partiamo sempre dal santo del giorno, quindi dall'almanacco e poi dalle previsioni del tempo. Oggi è sabato 9 luglio, Santa Veronica Giuliani, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.52. Previsioni del tempo, vedete fra pochissimi secondi che i tre giorni a venire, compreso quello di oggi, saranno tre giorni copia e incolla, almeno sulla carta si presenteranno in questo modo. Vedete le previsioni per oggi, sulla costa sole pieno, non c'è manca una nuvoletta, sereno o poco nuvoloso. Gli addensamenti cumuliformi, senza pioggia, ci saranno soltanto sui rilievi. Non si escludono isolati e brevi piovaschi, però pomeridiani e sempre sulle zone collinarie montuose. Per domenica più o meno la situazione sulla costa rimane la stessa, vedete sole pieno in provincia di Pesero, Ancone e anche nelle basse marche. Invece possibilità di rovesci locali o brevi temporali pomeridiani, come vedete nella simbologia, e nelle zone interne le temperature non superanno variazioni di rilievo. E anche lunedì, quindi l'inizio della settimana, sarà più o meno esattamente, almeno sulla carta, come questi due giorni sereno o poco nuvoloso, addensamenti nelle ore più calde della giornata, quindi nelle ore centrali, e non si escludono i piovaschi, insomma brevi piovaschi occasionali, però sempre sui rilievi. E queste erano le previsioni del tempo, quindi un altro bel weekend soleggiato, col quale potremo fare tutto ciò che più desideriamo. Entriamo subito nelle pagine dei giornali, partiamo con il rinnovato, Corriere Adriatico, come vai da diversi giorni, è completamente rinnovato, sia nel formato, nella grafica, nei caratteri e soprattutto nell'impostazione. All'interno sempre il messaggero in edizione nazionale, per appunto vedere le notizie che riguardano tutto il territorio italiano, però poi naturalmente nello spaccato entriamo nelle singole province con il Corriere Adriatico. Quindi tante pagine in più, tanti articoli ancora più approfonditi. Questa là che vi faccio vedere è la pagina di apertura, come vedete sono riassunte le notizie principali. Allora entriamo appunto nella fotonotizia, parla il kill di fermo, i neri paghino le tasse, l'autopsia dello sventurato ragazzo di colore, colpito e caduto a terra, cioè come è avvenuta la sua morte. Poi in testa Moretti, muratore al Futura Festival, e poi si parla anche di calcio, il Fano rinuncia anche Sivilla e Marianeschi, ci sono appunto cessioni nel Fano, dopo la nomina della D che rivoluzionerà tutto l'assetto della squadra, e anche insomma il tanto amato Sivilla è in partenza. Poi rivoluzione in centro con statue e alberghi, si parla del restyling di Pesaro e poi naturalmente in basso anche un incidente che vede gravissimo un giovane e poi si parla di prove in valsi. Allora andiamo a vedere la rivoluzione del centro, c'è una cartina, una mappa che riguarderà appunto questa zona di Pesaro, riqualificazione. Partiamo con sei cantieri in diverse aree, opere d'arte per arredare le piazze. Gli alberi saranno la novità e uno degli artisti che sarà protagonista di questo restyling del centro di Pesaro sarà il maestro Giuliano Vangi, toscano, che potrete conoscere più approfonditamente, insomma donerà una statua a Pesaro, ma se volete vedere parte delle sue opere, ci sono 20 opere, dovete venire a Fano, a Palazzo Bracci Pagani, rinnovato Palazzo Bracci Pagani, dove ci sono 20 delle sue opere in mostra fino ai primi di agosto, quindi per vedere l'opera di questo maestro venite a Fano. E in primo piano anche un episodio sul lungomare di Pesaro ieri, che ha gettato nel panico diverse persone perché Gine minaccia di gettarsi dall'hotel. Un imprenditore libigo di 53 anni annuncia il gesto estremo e si barrica al Cruisi. I caribinieri lo invitano e lo convincono a desistere. Poi si parla di scuola e di studenti, studenti marchigiani molto bravi, lo dicono le prove in valsi, non c'è storia. Anche quest'anno gli studenti hanno ottenuto ottimi punteggi. Poi la Fano Grosseto, buone notizie, una boccata d'ossigeno, titola il Corriere Adriatico, il Vice Ministro Nencini, da gas al programma, Guinza e Mercatello sono in finanziamento, Gostoli, il Segretario PD, applaude all'azione di governo e Regione che si servirebbero più risorse e dicono anche se servirebbero più risorse all'ANAS. E quindi insomma è un miliardo e 800 milioni di euro, l'opera sarà realizzata, il costo l'opera sarà realizzata entro il 2020 e soprattutto, buone notizie, nessun pedaggio per quelli che la percorreranno. Entriamo nelle pagine che riguardano Fano, si parla ancora di ASET e di fusione, di quello che è avvenuto con la diffida ai consiglieri Garbattini, Santorelli e Del Vecchio, il Consigliere Auspici, interpellato dalla Giunta, non ha trovato il verbale con la decisione. Interrogazione urgente della tua Fano, con tre cruciali domande. Il Sindaco in imbarazzo per la Presidente, Susanna Testa, l'ex Sindaco Aguzzi, dice vogliamo sapere se il primo cittadino fosse a conoscenza dell'atto che riguardava i consiglieri. Ma se ridice non revocherò gli amministratori l'opzione ventilata solo in caso in cui ignorino il suo richiamo, il richiamo chiaro contenuto nella lettera. E poi i funerali, i funerali dell'operaio 44enne, morto per un incidente sul lavoro, ieri si sono tenuti i funerali per Gianni Ambrosì, tanta gente, folla assiepata a ridosso della chiesa, una folle in lacrime per l'ultimo saluto a pelo, così era conosciuto tra gli amici. Andiamo a vedere anche qual è la sorte del referendum della raccolta delle firme che è stata fatta per la sanità, per l'ospedale Fanese. Il referendum slitta di un anno senza deroga al 15 settembre. Il comodato dei promotori evidenzia che mancano i tempi tecnici per l'indizione. E quindi leggete questo articolo che parla appunto di questo nodo così cruciale per Fano e per tutta la provincia. La pagina del Val Cesano, del Corriere Adriatico, si parla di atleti che arriveranno da tutto il mondo per i campionati per la terza edizione di Adriatic Crown che dal 22 al 24 si terrà nel specchio d'acqua antistante Marotta, rinnovata festa anche per la rievocazione della pesca a Strascico. Vedete gli atleti impegnati in queste due giornate sono quelli del SUP, Stand Up Paddle, praticamente la tavola da surf che si conduce con la pagaia, con il remo. E poi sempre lavori nel giardino storico, nuovo look dopo 30 anni, il sindaco Baldelli e l'assessore castratori nel cantiere del giardino, siamo appunto a Pergola. Vedete come le pagine sono più approfondite, si entra più nella notizia grazie a tutto lo spazio e la disposizione che hanno i colleghi del Corriere Adriatico. Andiamo a Senigallia, spiaggia sotto sorveglianza, sequestrato un mercatino, recuperati migliaia di articoli abusivi, debuttano le moto d'acqua della polizia quindi insomma per intensificare i controlli si fa ricorso anche alle moto d'acqua, giornata di controlli della polizia a bordo di mezzi nautici e dei vigili urbani sull'arenile e quindi per rendere più sicura e più naturalmente fruibile l'arenile da parte dei turisti e dei cittadini. Incidente anche a Senigallia, un frontale, l'auto sbanda e si scontra con un camion, muore a 69 anni, un corinaldese, forse è stato anche stroncato da un malore. Entriamo nelle pagine del resto del Carlino, abbandoniamo il Corriere Adriatico in tutta la sua edizione nuova e la pagina di Pesaro che apre l'inserto del resto del Carlino per questa provincia. Si parla in testa di furti, finestra aperta, le rubano tutto, colpo da 50.000 euro tra gioielli e preziosi a Monte Granaro, proprietaria, naturalmente possiamo immaginare, disperata. E poi un incidente, ahimè, che è costato la vita a un giovane, Mattia, no, non è costato la vita, chiedo scusa a questo ragazzo che lotta comunque per la vita in ospedale. Scusate, schianto all'incrocio tra scooter e auto. È gravissimo, è gravissimo il giovane, ma è ancora in vita. E allora vediamo questo incidente. Ci sono due pagine, pagina 2 e pagina 3 del resto del Carlino, sulla ricostruzione di questo incidente. Il Centauro è volato via per una ventina di metri. Il giovane si è trovato all'auto davanti all'altezza della strada Madonna di Loreto. non è riuscito ad evitare lo scontro alla guida della Fiat un pensionato di 77 anni. È appunto con la moto contro la Panda, gravissimo, ma ancora in vita, ripeto, questo ragazzo di 24 anni, l'incidente in via Fratti e l'urto. È stato molto violento, vedete qui nella foto appunto l'incidente, qui e poi la foto di Mattia Angelini, pesarese, 24 anni, che speriamo tutti ce la possa fare, in bocca al lupo. Allora, allarme sicurezza, la proprietaria esce, villa subito razziata, ho lasciato una finestra aperta, hanno portato via tutto. a Fano, la pagina di Fano del resto del Carlino, parla di una possibilità, matrimonio in spiaggia, bisogna prenotare 30 giorni prima, ma costa 1000 euro. Poi vi volevo far vedere questa, abbiamo ancora qualche minuto, questa bella storia, insomma, dalla Danimarca, per festeggiare 50 anni insieme. Sono dei turisti che si sono così innamorati a Torrette durante un campeggio con i genitori, insomma, e vengono ogni anno qui, insomma, sul nostro mare a passare il mese di luglio in campeggio. Sono questi due, vedete, bellissimi nella foto, appena sposati e le loro, insomma, i loro 50 anni, le nozze d'oro, le vengono a festeggiare, naturalmente qui, nel luogo che li ha visti incontrarsi e, insomma, che li ha visti protagonisti in tutta la vita. Belle storie, ci sono anche queste belle storie da potervi mostrare. E poi, naturalmente, anche il Carlino parla dell'addio a Pelo. Ciao Pelo, l'addio dei tanti amici. E mamma Vittoria fa coraggio a tutti. Calcinelli, siamo a Calcinelli, folla per salutare l'operaio caduto dalla gru. Don Giuseppe dice alle figlie, anch'io ho perso mio padre in un incidente sul lavoro. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella del resto del Carlino. Un campione mondiale di pizza, penso uno degli alimenti più conosciuti al mondo e più invidiati da Mezzomondo. Per quanto ci riguarda, è originario di Mondavio. Eccolo qui, si chiama Giorgio Sabatini, campione mondiale di pizza. E poi ladri in azione, anche qui, come cavallette sul lungomare. Siamo a Marotta, due o tre furti al giorno ai danni delle auto parcheggiate. Le prede preferite sono turisti e non solo. L'importante, questo l'hanno sempre ribedito anche le forze dell'ordine, di lasciare cose preziose all'interno dell'abitacolo e soprattutto visibili dall'esterno. Insieme alle finestre aperte, che non dovrebbero rimanere mai durante l'estate, in vostra assenza, anche gli oggetti nelle auto. evitiamo di lasciarli sotto gli occhi di malintenzionati. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia e aver iniziato questa giornata insieme a noi, insieme a Occhio ai Giornali, che tornerà lunedì mattina alle 7.30, naturalmente, puntualmente. Bene, grazie per essere stati con noi. Buona fine settimana a tutti. Arrivederci.